Caro albergatore, se ti dicessi che lo scorso Natale ti sei perso un mercato da 60 miliardi di dollari, che cosa mi risponderesti? Beh, mi risponderesti che ne vuoi sapere di più. Quindi resta sintetizzato e non perderti assolutamente questo video. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle gift card alberghiere. Quindi ci proietteremo già da adesso a gennaio per Natale. Voi direte, ma è un pochino presto, forse non ci stiamo muovendo con troppo anticipo, no, in realtà non è così, perché solitamente per effettuare determinate modifiche voi albergatori siete un po' lentini nel prendere alcune decisioni, ma visto che questo mercato non ce lo dobbiamo più perdere, nel prossimo Natale dovete rientrare anche voi, ebbene è il caso di agire subito. Anche perché parliamoci chiaramente, quello del gift card alberghiere non è un mercato solamente natalizio, ma si vendono tranquillamente anche durante tutto l'anno. L'importante è poi adottare le giuste strategie. Ora veniamo a noi, veniamo del motivo, quello che è nato questo video. Bene, chi mi conosce, chi ha già usufruito i miei servizi, chi magari è affidato a me il rifacimento del proprio sito web, beh, è una cosa che io dico sempre, mettiamo un tastino che permetta alle persone di comprare queste gift card alberghiere, questi soggiorni, perché effettivamente sono un tipo di regalo che sta andando tantissimo. Ma io in questo caso non vi voglio parlare di quello che dico io, ma mi sto basando invece su un articolo molto interessante della rivista Hotel Domani, nel quale poi vi lascerò il link in descrizione, che parlava per l'appunto di queste gift card alberghiere e di come ormai si sia creato un giro d'affari di 60 miliardi di dollari, che raggiunge soprattutto un apice tra le 23 e le 24 della vigilia di Natale. Ci sono tantissime motivazioni, una perché dopo la pandemia le persone preferiscono regalare più esperienze rispetto a oggetti fisici, ci sono le aziende che addirittura, rispetto alla solita strena, preferiscono regalare ai propri dipendenti, ai propri clienti, delle esperienze. Ma non dobbiamo dimenticare loro, loro che davvero ci faranno fare dei ricavi pazzeschi per quella data, ovvero i ritardatari, coloro che si sono scordati di fare il regalo di Natale a qualcuno e alla quale voi risolverete la situazione. Voi grazie al vostro versito web, al vostro tastino, permetterete loro in pochi clic di evitare una brutta figura. E pensate un po', nel momento in cui una persona si riduce all'ultimo per fare un regalo di Natale, che cosa succede? Che è disposta a spendere più dell'importo che aveva preventivato, proprio perché si deve togliere un problema. Sicuramente alcuni di voi mi diranno, va bene, ma loro mi possono chiamare, io tutto ciò lo posso fare allo stesso modo senza avere il sito web ottimizzato o comunque pronto per poter emettere una gift card alberghiera. Ebbene, vi dico che non è esattamente la stessa cosa, perché immaginate, io devo chiamare, mi deve essere qualcuno a tutta parte che deve ricevere i miei soldi, magari un bonifico, quindi magari non te lo so fare istantaneo, non lo so quello che sia, poi voi dovete farmi la gift card, eccetera. No, io devo andare sul sito web, non devo avere contatti con voi, non mi interessa il sito web, la landing, quello che sia, deve parlare per sé, deve essere chiara, io devo cliccare, mettere i miei dati, io sono lì con i miei soldi, vi voglio dare i miei soldi, bene, pago e mi arriva l'email. Poi queste email le agire direttamente al fortunato vincitore di questa gift card, oppure addirittura la stamperò e la metterò in un bigliettino che ho riciclato per casa. E intanto mi sono risolto il problema del regalo di Natale. Capite bene perché hanno questo apice tra il 23 e il 24 di dicembre. Quindi questa è una davvero cosa che non può mancare quest'anno nel vostro sito web, assolutamente. Però già sono sicura che alcuni di voi sono lì pronti a scrivere nei commenti, eh ma io non c'ho la spa. Ebbene non possiamo pensare semplicemente alla spa, al centro benessere, non possiamo inserire anche le cene, oppure semplicemente il soggiorno presso il nostro hotel. Addirittura si può pensare di fare una be offer, una un po' più economica e una un po' più costosa, nel senso, vuoi spendere di meno, magari il soggiorno ha il vincolo che ne puoi soffrire dal lunedì al venerdì. Oppure te ne faccio uno completo che ne puoi soffrire quando vuoi, dal lunedì al lunedì. Quindi senza nessun problema. Quindi si può fare addirittura questa cosa qui, si può fare un'altra più completa, una be offer dove c'è il soggiorno e un'altra dove abbiamo soggiorno più cena, soggiorno più spa. Quindi le possibilità sono davvero infinite. L'importante è che il vostro sito web sia pronto. Perché vi ho detto che vi dovete muovere? Perché per rifare un sito web normalmente ci è impiegato una vita. Io capisco che non si tratta di importi esigui, quando si rifà un sito web lo si rifà bene, gli importi sono alti e quindi adesso fai i vari preventivi e ora prendo la decisione e ora si lavora sul sito web. Ho visto ritardi pazzeschi da parte di colleghi che consegnavano siti web con mesi e mesi di ritardo, quindi capisco bene tutto quanto ma ci dobbiamo muovere adesso perché voi non vi potete poi ricordare a inizio di dicembre di dover fare questo lavoro. Ovviamente quando avete una cosa del genere anche il resto del sito deve parlare per voi e dare valore a tutti i servizi che voi offrite. Però come vi dicevo prima non dovete pensare semplicemente al gift card alberghiere come una soluzione per Natale ma vanno bene anche durante tutto l'anno. Io stessa come mamma insieme al gruppo delle mamme è un regalo che abbiamo fatto alle maestre dell'asilo di mia figlia quindi capite bene possono essere davvero utilizzate in ogni occasione e si fa anche una bella figura poi anche in base al budget che viene messo a disposizione. Ma le gift card oltre a essere un buon modo per aumentare il fatturato durante tutto l'anno non puntando semplicemente a vendere la stanza in quel determinato periodo è un diciamo un'opzione molto interessante anche perché dovete calcolare che normalmente gli ospiti anzi il 72 per cento degli ospiti tende a spendere più del valore della gift card quindi anche in questo caso si può avere un aumento dei ricavi anche negli altri vari settori della tua struttura. Ora come ti dicevo questi sono dati, informazioni che io ho avuto piacere di leggere nell'articolo di hoteldomani.it. Come dicevo all'inizio ho messo il link in descrizione e andate tutti a leggere questo articolo che è molto interessante così come gli altri articoli interessanti di Hotel Domani. Nel momento in cui voi avete compreso il valore di questa gift card sono certa che siete già lì pronti a vedere come implementare tutto ciò all'interno del vostro sito web e mi raccomando ci tengo a ribadire una cosa, il tutto deve essere automatizzato, io devo arrivare, scegliere, cliccare, pagare e avere subito l'email, non devono passare 24 ore, non deve esserci nessun problema, nessun check da parte di un operatore, niente, deve essere tutto automatizzato. Quindi mi raccomando per far sì che tutto ciò sia vincente questa cosa non può essere negoziabile, deve essere o così o assolutamente niente. Dal prossimo Natale voglio tutti pronti con le gift card sul vostro sito web, ovviamente tutto ciò non è che non deve essere sponsorizzato, dovete farlo sapere al mondo che avete messo tutto ciò a disposizione sul vostro sito e poi fatemi sapere come è andata qui nei commenti. Io intanto vi aspetto nel prossimo video. Besos!